Nel lavorare con alcuni di voi ultimamente mi sono accorta che c'è una sorta di salto, gap, tra il lavorare sugli esercizi e il cantare. È come se si creassero due personalità diverse. Qualcuno lavora sugli esercizi tantissimo e poi però inizia a cantare e altri cantano e basta. Allora, attenzione, quando ci si sposta dagli esercizi ai brani non è che semplicemente si salti dal fare una cosa ad un'altra. Fare gli esercizi è molto utile, non deve diventare ossessivo, non deve diventare faccio solo quelli e basta, ma non deve nemmeno diventare un mondo parallelo. Cioè quando avete fatto un po' di esercizi perché state studiando, ok, ma quando li fate in preparazione del cantare, assicuratevi di aprire le posizioni che vi servono, raggiungere le note che vi servono nella posizione giusta, con le giuste combinazioni di cose. E solo dopo iniziate a studiare il brano, ma studiatelo nota per nota, non studiatelo semplicemente aprendo la base e cantando.